Ciao ragazzi, siamo a Milano. Siamo a Milano perché stiamo andando all'evento Level Up di Bandai Nanco. Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo al Bobino Club di Milano, a un evento organizzato da Bandai Nanco, che si chiama Level Up, dove verranno presentate alcune novità, alcune già annunciate, altre invece le vedrete man mano nel video e sono tante cose veramente carine, annunci veramente carini per oggi. Oggi abbiamo la possibilità di intervistare due aspetti speciali di Bandai Nanco e quindi vi rimandiamo fra poco per vedere le varie novità che verranno annunciate nel corso del pomeriggio. E speriamo che possiate gradire anche voi questi nuovi titoli annunciati. Siamo qui con Koji Nakajima, game producer di Bandai Nanco per JSTARS Victory vs. Plus. e ora vorremmo qualche domanda sul titolo. Qual è la principale motivo per portare a JSTARS Victory vs. Euro? E ora vorremmo qualche domanda sul titolo. 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 Grazie a tutti i nostri spettatori. per la versione di J-Stars Plus. Il primo è il PS4, che non è disponibile per la versione di J-Stars Plus. Il secondo è il game mode, che è l'arcade game mode, che è anche esclusivo per la versione di J-Stars Plus. Per cui i useri puoi divertire molte battaglie con questo. Per lo scusivo di J-Stars si è un'accusa in C-Stars Plus. Il in cui si trattata grande è il cibo di DLC. Il corso l'arcade Gaia di DLC. Il corso l'arcade commerciale è sono alte e insieme a quel verifico i sui. In realtà il corso sia il nostro tipo di modello di Q-Shirt Plus. Sì, il corso il corso di DLC è un'accusa di RADD. Grazie. Grazie. Ci sono molti popolari di Dragon Ball, One Piece o Naruto, ma abbiamo trovato qualcuno di Capitain Tsubasa, Lem Dunk, Aishet 21, Shaman King, come si chiedeva? Ci sono stati di Capitain Tsubasa, ci sono stati di Capitain Tsubasa, ci sono stati molto popolari, ma come si chiedeva? Quindi, Questo è stato un gioco di battaglia, quindi ciò che si chiama il gioco in quanto riguarda il gioco il gioco, e quindi ciò che si chiama il gioco il gioco. In realtà ci sono due cose che si chiama il gioco. Il secondo punto è che questo è il battle game, quindi abbiamo anche bisogno di considerare come funzionale in questo battle game. Quindi abbiamo deciso di fare due punti, quindi abbiamo deciso di fare due punti. Il compagno di GESAVICTORI TITLE con più caratteristiche? ma non ci sono ma se c'è il il un Questa è la quale è la quale è la quale è la quale? La quale è la quale è la quale è la quale è la quale? La quale è la quale è la quale ? Quindi mi piacerebbe che ci sono piacere il piacere. Grazie. Che cosa è il piacere del piacere? Qual è il piacere del piacere? Ah, una questione difficile. Jojo e Mike. Oh, Mike! Oh, Mike! Quindi è molto difficile, anche io sono cruciale. È questo più popularmente in Italia? Sì. Il momento è arrivato da 5 mesi. Quindi è molto più popolare perché del animo. Sì. 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 Sticky. Sì. 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 C'è un po' di più colla. J.S.TARS e che non sobra? Sare detto anche se. Ma allora noi se. Se tu non è così, è tutto il problema? F.S. 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 Grazie a tutti. 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 Tu sei lo scotch sulle sopraccine, quindi sei tipo... Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.